Musica Cari amici del Caffè Biblico, ben ritrovati insieme. Oggi leggeremo un verso dall'Antico Testamento, nel libro del profeta Zaccaria, il capitolo 4, il verso 10. La prima parte dice così, chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Il giorno delle piccole cose, non va disprezzato. Dio è il Dio delle grandi cose, ma anche il Dio delle piccole cose. Se pensate alla grandezza dell'universo, le stelle, i pianeti, le loro dimensioni così straordinarie, ma Dio è anche il creatore delle piccole cose, dei microorganismi, degli insetti, di quelle cose così piccole ma così perfette. Egli si occupa anche dei dettagli, dei particolari. E la nostra vita non è fatta sempre di grandi eventi. I grandi eventi succedono una volta ogni tanto, un matrimonio, la nascita di un figlio. Ma la nostra vita è costellata di tante piccole cose, piccoli eventi che rendono piacevoli o spiacevoli i nostri giorni. E la Bibbia ci chiede questa mattina non disprezzare le piccole cose. Non disprezzare il giorno delle piccole cose. Gesù prese cura dei dettagli. Nel suo ministerio terreno, egli è sempre stato attento ai particolari. Ad esempio, quando Gesù mutò l'acqua in vino, ricordate questo evento? Quando fu assaggiato questo vino miracolosamente tramutato dall'acqua da Gesù, dissero che questo vino era migliore del precedente, era di una qualità superiore. Gesù non fece un vino qualsiasi, fece un vino di ottima qualità. E ancora, Gesù quando moltiplica i pani e i pesci per cinquemila persone, quindi immaginate, escluse le donne e i bambini, quante persone potevano esserci lì? Gesù si occupò anche di questo dettaglio, che nulla si perdesse e quindi ordinò ai discepoli di raccogliere gli avanzi incesti. Gesù seppe lodare una povera vedova, mentre Gesù osservava al Tempio coloro che facevano le loro offerte, gettando nelle trombe delle offerte molti, molti soldi, arrivò una povera vedova e buttò dentro due spiccioli. Era tutto quello che aveva. E di lei abbiamo il ricordo, perché Gesù la lodò, perché diede tutto quello che aveva. Gesù vede tutto, Gesù vede i piccoli particolari. Gesù sulla croce morendo si preoccupò non tanto di se stesso ma di sua madre e l'affidò a Giovanni. E ancora Gesù risorto, prima ancora di ascendere al Padre per completare la sua missione di redenzione, fa una deviazione perché vede presso il sepolcro Maria Maddalena che stava piangendo perché non trovava il corpo di Gesù e allora Gesù le appare per consolarla. Sì, Gesù prende cura dei dettagli. Gesù è interessato a ogni particolare della nostra vita e nulla gli sfugge. Pensate, della sua parola è scritto che non passerà neppure una virgola, neppure uno iota, cioè il puntino che era nelle Sacre Scritture. Gesù ha detto che ogni cosa si adempirà. Quindi il nostro Dio è un Dio delle grandi e delle piccole cose, è un Dio che cura i particolari. E allora questa mattina prendendo il nostro caffè lo vogliamo gustare, è una piccola cosa che fa iniziare bene la nostra giornata e speriamo che anche il nostro caffè biblico sia un piccolo contributo, una piccola cosa che rende più gradevole questa nostra giornata. Dio ci benedica. Dio ci benedica.